Ennesimo naufragio nell'Egeo stamattina. Erano in quindici, tra cui tre bambini, su una barca che si è ribaltata. Due uomini sono riusciti a tornare a nuoto sulla costa di Denizkoi, a nord di Smirne. Altri tre, compresa questa donna, sono stati ripescati dalla guardia costiera. Tentavano di raggiungere l'Esbo, l'isola greca dove si trova un enorme campo profughi. Sappiamo poco di quello che è successo perché il governo di Ankara proibisce la guardia costiera di parlare con i giornalisti. In compenso è prodigo di cifre quando si tratta di tenere sulla corda l'Unione Europea. Pochi giorni fa il ministro dell'Interno, Soilu, ha ricordato al commissario europeo per le migrazioni, Avramopoulos, che la Turchia trattene sul suo territorio 205.000 migranti irregolari, di cui 80.000 afghani, e che gli arresti di chi tenta di passare in Grecia sono aumentati dal 10 al 54% negli ultimi cinque anni. Insomma, per certi governi migrare non è un diritto fondamentale, ma una questione di ordine pubblico. La stessa filosofia del decreto sicurezza voluto da Salvini, che dopo un mese fa già sentire i suoi effetti. Rifiutata la domanda di asilo a tre migranti su quattro, dimezzate le protezioni umanitarie, mentre il circuito dell'accoglienza subisce pesanti tagli. Nel mirino gli Sprar, i centri di accoglienza diffusa che funzionavano bene. D'ora in poi potranno restarci solo i rifugiati, i pochissimi ai quali viene riconosciuto lo status, mentre tutti gli altri devono andarsene. Decine di migliaia di persone che avevano iniziato un percorso scolastico e professionale, che aveva creato molti posti di lavoro, adesso a rischio, ributtate in strada ad alimentare il rancore e la paura.